Presente, Esposito Rossino, Presente, Monaco, Presente, Iotica d'Alvatore, Presente, Galluccio, Presente, Mileto, Presente, Fosca, Presente, Pugcio, Manigliano, Presente, Laessa, Presente, Paltano, Assente, Sodio, Assente, Pugliese, Assente, Ferrara Madro, Assente, Cerrone, Assente, Perone, Presente, Paltano, Presente, Portese, Presente, Corruccio, Presente, Iotica Massimo, Presente, Ferrara Serra, Presente, Presente, Iotica, Assente, Pertano, Sottopicio, Presente, Paglia, Presente, Paglia, Presente, Paglia, Passiamo alla primo capo a domenica del giorno, approvazione delle salle sedute precedenti, nel 15 luglio 2011, nella parola al consigliere che non diceva di noi. Buongiorno a tutti, buongiorno ai convenuti, buongiorno ai consiglieri, sindaco, presidente. Vedete, in questo caso, voi sapete bene che c'è un attività che ormai è arrivata al dunque. La settimana prossima si sfruggerà questo ricorso al TAR per quanto riguarda i primi due consigli comunali che noi abbiamo fatto ricorso sulla illegittimità di queste sentenze. Siccome al primo caso si discute di questa approvazione di questi verbali, noi abbandoniamo l'altra per poi rientrare nel secondo caso. Un'approvazione delle parti che noi vogliamo. Quindi dato per scontato che hanno abbandonato, ma ho raggiotto i consiglieri dell'opposizione delle persone, il capo viene approvato, diciamo, dai presenti, dai tredici. Si passa al secondo capo all'ordine del giorno. Soposto al Consiglio Comunale, provate il decreto di Financio 2011, è il decreto legislativo 260, tecchere di un'idea. Io ho un decreto. Io ho un decreto. Allora, stiamo nel secondo caso, chi sta a richiesta di intervenire? Allora, diamo la parola all'assessore di Lancio.